Il ricco programma d'ottobre a dicembre presentato all'archivio di Stato dalla direttrice Laura Ciotti una serie di eventi, incontri, dibattiti, mostri e documentarie che partirà a ottobre per celebrare anche ad Ascoli il settecentenario della morte del sommo poeta. Ai nostri microfoni abbiamo intervistato Stefano Papetti, direttore dei musei civici di Ascoli Piceno. Oggi abbiamo presentato all'archivio di Stato, sede naturale per questi eventi, una serie di incontri che da ottobre a dicembre saranno realizzati in vari luoghi della città di Ascoli, compreso lo stesso archivio di Stato per commemorare il settecentenario dantesco. Incontri a 360 gradi che riguarderanno certamente la storia, la letteratura, le arti figurative, ma anche incontri destinati a un pubblico più giovane con visite animate alla città in modo da catturare nel nome di Dante il maggior numero possibile di persone, anche i giovani, ripeto. In Pinacoteca a novembre terremo due incontri. Il primo è dedicato alle immagini dantesche nell'arte italiana dell'Ottocento quando molti artisti marchigiani come Filippo Bigioli, come Cicconi di Castel di Lama o Adolfo De Carolis di Montefiore dell'Aso hanno realizzato dipinti a tema dantesco. Il secondo incontro è invece dedicato ad un capolavoro della scultura italiana dell'Ottocento che conserviamo in Pinacoteca che raffigura nel modo più convincente possibile l'incontro di Dante con Paolo e Francesca. Si tratta della scultura di Romolo del Gobbo che attualmente è stata prestata alla città di Forlì dove da qualche mese si tiene un'importante mostra dedicata a Dante e alle arti figurative. Quella scultura rientrerà tra poche settimane ad Ascoli e a novembre appunto ne parleremo in Pinacoteca. Quindi da ottobre a dicembre varie occasioni rivolte a tutti, al pubblico di tutte le età per considerare l'attualità di Dante che con la sua opera non ha lasciato soltanto un monumento significativo del Medioevo ma ha anticipato molti ambiti di ricerca letteraria, culturale e filosofica che si inoltrano anche nella contemporaneità. Grazie a tutti!